Quale sia quella più adeguata? Oggi siamo a scontro finalistico e su temi più revolte indotti. Nella città c'è stato un calo, che è un calo che arriva da lontano e è da qualche anno che c'è questo calo costante dei reati. E quindi la domanda è molto semplice, è innanzitutto se il Ministero può essere così cortese da darci dati dal 2016 a oggi con la differenza tra reati, tra denunce perché spesso si fa anche questo, cioè Modena è spesso tra le prime città per denunce anche perché c'è una forte motiva della legalità per cui se mi rinunco la bicicletta io vado a denunciare il furto della bicicletta non è così in tutto il paese. E quindi differenza tra reati e denunce e tipologia di reati questo diciamo è questo. Mi spiace che appunto poi dopo ci sia stata questa polemica cavalcata anche dai candidati dai candidati del centro-destra su questi dati che sono dati appunto che si rivolgano alla provincia e comunque sono dati che è complicato commentare così perché così non vogliono dire assolutamente niente e gradirei che il Ministero dell'Interno il Viminale e tutti i suoi organi quindi le prefetture, le questure e tutto quello che dipende dal Ministero dell'Interno si comportasse in un modo appropriato soprattutto in un momento così delicato soprattutto in una città come Modena che ha una storia molto lunga dal 53 diciamo dopo ci sono state le fonderie che c'è un rapporto molto scherzo e tranquillo tra prefettura, costura e comune e quello che sta succedendo in questi ultimi giorni secondo me è una cosa che macchia un lavoro di decenni che spero invece voglia continuare a essere più positivo di qui in avanti quindi diciamo semplicemente chiediamo poi posso scrivere anche un errore del fassino di fare chiarezza in modo tale che si possa essere un dibattito sulle proposte di Modena e sui dati reali della città ecco tutto qua dal 2016 ad oggi